Siamo al terzo anno di presenza qui a Foggia al bellissimo teatro Giordano. Carmen è un'opera epocale che rappresenta l'emblema massimo di quella che è la lotta eterna tra l'uomo e la donna. E parlare di Carmen è veramente molto difficile, come è difficile rivestirne i panni. Sicuramente Carmen continuerà a brillare tra le mura di questo meraviglioso teatro, perché qui regna un'atmosfera magica. Avere avuto il privilegio di dirigere questo prestigioso teatro Alberto Giordano di Foggia sicuramente credo sia una delle aspirazioni che un qualsiasi direttore italiano può avere. Poi in particolar modo dedicarsi a un'opera come Carmen, che indubbiamente rappresenta questo quacervo di emozioni che fanno parte un po' della nostra umanità, che ci ricordano davvero quanto in realtà siamo umani. Tu puoi male te... Tu puoi male te... Applausi Grazie 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 Grazie